Musica Teggiano restituito alla comunità l'obelisco di San Cono, terminato il restauro questa mattina alla presentazione. Teggiano nella cattedrale di Santa Maria Maggiore, celebrazione per i dieci anni di ordinazione episcopale del Vescovo Monsignor De Luca. Sala Consilina martedì 31 maggio, presentato il lavoro dei ragazzi dell'Istituto Cicerone, dedicato alla Shoah dal titolo Oltre il filo spinato. Inclusione e diversità, la Banca Montepruno partecipa all'indagine della Federazione Bancaria Europea. Sanza, ieri la messa a dimora di alberi per l'iniziativa Voler Bene a Sanza. Ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. È stato inaugurato questa mattina l'obelisco di San Cono, che è stato restituito alla comunità dopo gli attenti lavori di restauro effettuati sia sulla statua posizionata in cima che sull'intera struttura. Un lavoro che si attendeva da tempo e che è stato finalmente realizzato grazie ai fondi POR 2014-2020 di strategia delle aree interne. Un importante momento per la comunità tegianese questa mattina, giorno in cui la Chiesa celebra San Cono. L'inaugurazione alla presenza anche del consigliere regionale Corrado Matera, che sin dal momento in cui ricopriva la carica di assessore regionale della campagna, si è attivato per consentire l'arrivo dei fondi per il recupero dell'opera, sorta a seguito del terremoto avvenuto nel 1857, che colpì duramente tutto il Vallo di Diano. Teggiano non subì particolari danni né vittime e per tale ragione i cittadini decisero di realizzare l'obelisco nel punto in cui la comunità si rifugiò. Ma ascoltiamo le interviste realizzate questa mattina a Teggiano. Il San Cono è la storia di questa comunità, è la nostra identità, è la storia di tante generazioni che nei secoli si sono allontanati, sono emigrati. Per cui non le nascondo che sono orgoglioso di aver proposto ed approvato in giunta il recupero del restauro della statua dell'obelisco. Sicuramente ha un significato importante che si consegna alle future generazioni. Riacquistiamo la libertà, la partecipazione sociale dopo due anni di pandemia. Partiamo dal mese di giugno con appuntamenti importanti, dove ci sarà tutta la partecipazione da parte di tutta la cittadinanza nostra. Ci sarà la processione del nostro santo protettore. Al rientro della processione ci fermiamo in piazza con la statua di San Cono presente e inauguriamo l'obelisco di San Cono, che ritengo che è un'opera importante che è stata ristaurata per il nostro paese. Colgo anche l'occasione di ringraziare la regione Campania che ci ha dato la possibilità di ristaurare questo monumento. Erano da anni che ci stavamo dietro, ma non si riusciva mai a portare a segno quest'opera. E quindi voglio ringraziare Corrado Matera, allora assessore alla regione Campania, dove ha finanziato l'opera e oggi siamo qui a inaugurare l'opera. Sono trascorsi dieci anni dall'ordinazione episcopale del Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, e dal suo arrivo alla guida della Diocesi. Mercoledì scorso, presso la Cattedrale di Santa Maria Maggiore, si è tenuta a Teggiano la celebrazione religiosa. Vediamo i dettagli. Mercoledì primo giugno a Teggiano, celebrazione per i dieci anni di ordinazione del Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, avvenuta nel febbraio del 2012. A distanza di pochi giorni, Monsignor De Luca arriva nel Vallo di Diano, alla guida della Diocesi. Un anniversario doppio, quindi, che è stato festeggiato e celebrato da tutto il territorio diocesano con la presenza e la celebrazione religiosa di diversi sindaci provenienti dal Golfo di Policastro, dagli Alburni e naturalmente dal Vallo di Diano, partendo dal sindaco di Teggiano Michele Di Candia, che ha ricordato il suo arrivo a Teggiano e la vicinanza mostrata alle amministrazioni locali. Dieci anni di ordinazione episcopale, ma anche dieci anni dall'arrivo del Vescovo del Vallo di Diano, avvenuta il 4 febbraio del 2012. La cerimonia di mercoledì scorso primo giugno è stata anche occasione per Monsignor Antonio De Luca di rivolgere le sue parole all'intera comunità diocesana, tracciando anche il bilancio di questi dieci anni trascorsi tra le comunità del Vallo di Diano, del Bussento e degli Alburni. Dieci anni è un piccolo tratto di strada che abbiamo fatto alla luce delle consuetudini, le tradizioni, la ricchezza di un patrimonio ambientale, senza dimenticare le sfide, cui siamo chiamati in questo momento, che è tipico delle nostre piccole aree interne. A noi come Chiesa interessa non spegnere la speranza e soprattutto abbiamo cercato in ogni modo di essere accanto ai bisogni, alle emergenze per eliminare ogni forma di disuguaglianza e di discriminazione. La ricchezza di questo nostro territorio ha generato personalità particolarmente eccelse nel mondo della cultura, della scienza, dell'educazione e ciò mette in evidenza la tenacia, la determinazione del sacrificio e dell'impegno. Tutto questo lo ricordiamo affinché diventi stimolo e impegno per noi e per le nuove generazioni. Credo che in questo momento ci possano essere di aiuto tre parole che un filosofo contemporaneo ha consegnato valutando le sfide che ci aspettano. Le tre parole potrebbero essere dentro, insieme e oltre, dentro la realtà, la storia che viviamo, ma insieme in una rete spirituale e umana, ma anche guardando l'eterno, l'infinito, l'oltre. Dentro, insieme ed oltre. Hanno suscitato grande emozione i ragazzi dell'Istituto Superiore Cicerone di Sala Consilina con il loro lavoro che ha visto come tema centrale la Shoah, ma anche l'amore. Martedì scorso i ragazzi dell'Ipsia e del Liceo Classico hanno presentato alla scuola e al territorio il lavoro denominato Oltre il Filo Spinato. Vediamo i dettagli nel servizio. Attraverso un film cortometraggio i ragazzi dell'Istituto di istruzione superiore Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, guidato dalla dirigente scolastica Antonella Vairo, hanno voluto celebrare la giornata della memoria che si celebra ogni anno a gennaio. Un lavoro che ha portato i giovani che hanno realizzato il progetto denominato Oltre il Filo Spinato, qua adiuvati dalle docenti Sara Petti, Anna Rosa Palladino e Maria Pia Scutiero, ad approfondire la storia e il dramma della Shoah attraverso il racconto della vita di Hans Kohl e di Rita Cairone, a cui sono stati dedicati i lavori che martedì scorso, 31 maggio, sono stati presentati nella mattinata a docenti e alunni dell'Istituto di istruzione superiore di Sala Consilina presso l'Auditorium dell'ITIS e nel pomeriggio al territorio in un evento che si è svolto presso l'Auditorium del Polo Culturale Cappuccini. Il lavoro realizzato e presentato dagli studenti dell'IPSE e del Liceo Classico Angelo Alagia, Luca Ubaldi, Matteo Godonoga, Dennis Marian Todorica, Samuele Mele e Alessia Di Leo è consistito nella realizzazione di un film cortometraggio e di una mostra fotografica, opere che hanno ripercorso la storia d'amore tra Hans Kohl, detenuto in un campo di concentramento di origine ebrea che ha vissuto un periodo della sua vita a Sala Consilina, dove ha conosciuto Rita Cairone, docente all'epoca del liceo di Sala Consilina. Un lavoro che ha consentito ai ragazzi anche di conoscere e di intervistare Anna Skoll, figlia di Heinz. Una giornata di grande commozione è rivelatasi anche un interessante momento culturale grazie alla presenza a Sala Consilina di Tullio Foa, della comunità ebraica di Napoli, che ha sottolineato l'importanza della scuola alla luce anche dei fatti che si sono verificati negli anni drammatici della Shoah e che avevano impedito ai bambini di origine ebraica di frequentare la scuola. Soddisfatta ed orgogliosa dei suoi ragazzi, la dirigente scolastica Antonella Vairo, che ha anche sottolineato come il progetto era stato ideato per la partecipazione ad un concorso a cui purtroppo non è stato possibile aderire. Ciò però non ha affermato i ragazzi che entusiasti di questo lavoro hanno voluto proseguire nella sua realizzazione mettendo poi il risultato ottenuto al servizio del territorio come nuova fonte di conoscenza. Voltiamo pagina. Grande soddisfazione per la Banca Montepruno che partecipa all'indagine della Federazione Bancaria Europea sui temi dell'inclusione e della diversità. Vediamo. Inclusione e diversità sono i due importanti temi su cui la Federazione Bancaria Europea ha avviato un'indagine a cui prende parte anche la Banca Montepruno, da sempre sensibile e attenta a queste tematiche, una iniziativa che rappresenta una grande soddisfazione per l'Istituto di Credito, diretto da Michele Albanese, individuato per partecipare all'indagine insieme ad un numero limitatissimo di banche in Europa. In particolare si tratta di una ricerca diretta ad approfondire l'attuale strategia e l'approccio verso la Diversity, Equity e Inclusion Day di uno spaccato rappresentativo di banche europee, tra cui appunto la BCC Montepruno. I risultati serviranno poi per la roadmap di Day che la Federazione Bancaria Europea intende redigere con raccomandazioni specifiche per le banche europee su come accelerare il loro percorso di Day. All'indagine ha lavorato la responsabile delle risorse umane, organizzazione della Banca Montepruno, Francesca Sessa, nell'ambito del suo ruolo di componente del gruppo di lavoro dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, Carta delle Donne, alla quale la BCC Montepruno ha aderito, oltre ad essere il riferimento della banca stessa, nell'associazione IDE, che è l'Associazione delle Donne e delle Banche di Credito Cooperativo. L'indagine della Federazione è collegata a tre temi, la governance per Day all'interno delle banche europee, il legame tra trasformazione aziendale e Day e gli aspetti di leadership di Day. L'indagine è stata inoltre un'ottima occasione per contribuire al processo di ricerca messo in atto, dando visibilità a quanto fatto dalla Banca sull'argomento, in vista anche della condivisione di esperienze che verranno fuori a livello europeo. L'amministrazione comunale di San Pietro Altanagro aveva deciso lo scorso 13 maggio come utilizzare la quota del 5 per 1000 spettante al comune. Andrà per servizi dedicati a bambini e a disabili. Ora, con apposita determina, chiarisce come saranno ripartiti i soldi. Vediamo i dettagli nel servizio. L'amministrazione comunale di San Pietro Altanagro della somma nella promozione della cultura e formazione dei bambini, rimuovendo eventuali barriere sociali ed economiche e favorire l'implementazione dei servizi comunali in favore dei diversamente abili. Della somma, ora, è stato deciso che 200 euro andranno per l'acquisto e la fornitura di libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria locale in occasione della giornata mondiale del libro e 510 euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale per diversamente abili. La legge, lo ricordiamo, prevede la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per 1000 delle trattenute IRPEF al comune di residenza. Le somme raccolte dal comune devono essere poi utilizzate per finanziare o ampliare le attività svolte in campo sociale. La scelta di destinare il 5 per 1000 non comporta maggiore spesa a carico del contribuente e non scegliere non consente alcun risparmio perché i fondi sono comunque destinati allo Stato. Nella dichiarazione dei redditi si può scegliere il beneficiario e lo Stato poi ripartisce la quota su indicazione dei cittadini contribuenti tra le organizzazioni no profit o altri enti come i comuni. A San Pietro Altanagro, da anni, l'amministrazione comunale sensibilizza i residenti alla donazione del 5 per 1000 dei propri redditi in favore del comune perché l'ente possa poi destinarli ad iniziative utili a sostenere i servizi sociali e quindi a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti. A tra poco! Bentornati in studio, proseguiamo con il nostro telegiornale. Un ricchissimo cartellone di eventi per la ripresa delle celebrazioni e dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Teggiano e della Diocesi San Cono. Domani sera appuntamento in piazza San Cono con il noto gruppo musicale Reduce da Sanremo, Le Vibrazioni. Domenica la chiusura dei festeggiamenti con il libro dedicato al culto di San Cono o Beate Cone. Vediamo i dettagli nel servizio. Domani sera 4 giugno il concerto del noto gruppo Le Vibrazioni Reduce da Sanremo farà da corredo ad un ampio articolato cartellone di eventi dedicato al Santo Patrono di Teggiano e della Diocesi San Cono. Oltre ai diversi appuntamenti religiosi che hanno consentito di poter riportare tra le strade di Teggiano la statua del Santo Patrono in processione dopo due anni di stop ad ogni manifestazione dovuta al rischio contagio da Covid, a Teggiano in questi giorni si torna a respirare aria di feste e di devozione per rafforzare la fede in San Cono. Oltre all'inaugurazione dell'obelisco restaurato con fondi POR 2014-2020 rientranti nell'ambito della strategia delle aree interne, diversi appuntamenti sono stati organizzati per la celebrazione della festa che oltre a riprendere i riti religiosi legati alla tradizione e al culto di San Cono prevedono anche momenti culturali con la presentazione domenica 5 giugno del libro Obeate Cone in cui attraverso approfondite ricerche l'autore Marco Ambrogi ripercorre la storia e la devozione del culto di San Cono non solo a Teggiano ma anche in diversi altri comuni valdianesi e momenti di musica d'eccezione con il ritorno con la 25esima edizione dell'evento musicale Teggiano Jazz realizzato grazie ai fondi POR 2014-2020 nella linea strategica Rigenerazione Urbana, Politiche per il Turismo e Cultura nell'azione 3, eventi di rilevanza nazionale ed internazionale sabato 4 giugno a partire dalle ore 21 in piazza San Cono arriverà il noto gruppo musicale Le Vibrazioni reduci da Sanremo con la canzone Tantissimo C'era l'aria che ci univa in mille persone C'era un tempo per dare avere C'è ancora la mia vita piena di tante cose Ho imparato a stare bene nel mezzo sempre Un evento concerto che direttamente da Teggiano porterà il pubblico ad ascoltare live alcuni dei brani più famosi del gruppo formatosi nel 1999 a Milano canzoni come Vieni da me Più, più, vieni da me Abbracciami e fammi sentire che Sono solo mie piccole paure Vieni da me Per vivere ancora quei giorni di Che te volete Oppure dedicato a te Ma anche tantissimi altri brani di successo Sarà quindi una serata di grande musica Un ricco cartellone di appuntamenti ed eventi quindi a Teggiano per ripartire alla grande dopo questi anni di pandemia che ha impedito le celebrazioni in onore di San Cono Non sono previsti fondi nel bilancio della regione per il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania Il servizio si trova al momento in forte difficoltà con alcuni automezzi già fermi e altri impiegati al minimo Il grido d'allarme è stato lanciato dalla dirigenza regionale I dettagli Purtroppo dal dicembre 2021 per cause non meglio definite la regione Campania non ha previsto nel bilancio alcuna somma per il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico e il servizio di ricerca e soccorso si trova al momento in forte difficoltà spiegano dalla dirigenza regionale che denuncia una situazione difficile alcuni automezzi spiegano sono già fermi per assicurazioni non pagate e altri impiegati al minimo per impossibilità di rifornimento di carburante nonostante le segnalazioni le continue richieste agli uffici e ai referenti preposti segnalazioni sia verbali che formali al momento non ci sono riscontri sul se e quando tale problematica potrà vedere la risoluzione La struttura, riconosciuta quale servizio di pubblica utilità dalla stessa regione nel 2019 negli anni è cresciuta molto al punto da riuscire ad assicurare una risposta operativa a tre o quattro interventi al giorno nei periodi di maggior rischio raggiungendo quindi numeri senza precedenti nella storia della regione nell'interesse collettivo auspichiamo dicono che il servizio di ricerche e soccorso non debba perdere ulteriormente efficienza così come sta avvenendo per l'insostenibile assenza di risorse finanziarie la situazione attuale già comporta ricadute estremamente negative sul turismo escursionistico e su tutte le attività correlate all'ambiente outdoor che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo esponenziale in tutta la regione campagna l'eventuale perdurare del problema concludono potrebbe avere risvolti drammatici così come segnalato alle prefetture e all'aggiunta regionale della Campania si è svolta ieri a Sanza l'iniziativa Voler Bene a Sanza con la partecipazione di Francesca Ferro direttrice di Legambiente Campania i giovani del borgo hanno provveduto alla messa a dimora di alberi nell'area dell'arena di Via San Vito vediamo e questo è il modo più giusto per Voler Bene all'Italia l'esempio migliore che mette in relazione i cittadini e il territorio così Francesca Ferro direttrice di Legambiente Campania che ieri pomeriggio ha dialogato con i giovani di Sanza di futuro ambiente e sostenibilità nell'ambito dell'iniziativa Voler Bene a Sanza inserita nell'evento nazionale Voler Bene all'Italia i giovani della cittadina selezionata dal Ministero dei Beni attività culturali nel bando borghi con il progetto Sanza Borgo dell'Accoglienza ieri hanno provveduto alla messa a dimora di alcuni alberi nell'area dell'arena di Via San Vito nel quartiere delle case popolari ospite d'eccezione dunque Francesca Ferro direttrice di Legambiente Campania che si è soffermata sull'importanza nel sistema paese dei piccoli comuni e delle comunità locali sottolineando i concetti relativi alla democrazia energetica finalmente a portata del paese grazie alla realizzazione diffusa delle comunità energetiche e ai fondi PNRR dedicati ai piccoli comuni la Festa Nazionale dell'Italia dei Piccoli Comuni continua ad essere un momento di grande visibilità e promozione della centralità che devono avere i territori e le piccole comunità diffuse nel processo partecipativo di transizione ecologica prevista dal piano di ripresa e resilienza a iniziare dalla realizzazione di una democrazia energetica basata sulle fonti rinnovabili i piccoli comuni attendono l'attuazione della normativa e l'attivazione del fondo PNRR a loro destinato proprio per realizzare le comunità energetiche rinnovabili distribuendo così sui territori notevoli vantaggi economici sociali e ambientali e con questo è tutto per l'appuntamento di oggi grazie per averci seguito continuate a restare con noi e a tutti buon proseguimento grazie per aver guardato il video